Da quando è stato installato l'albero di Natale 2013 di Faenza non ha ricevuto numerosi logi dalla rete. La scelta di Faenza centro di un albero artificiale illuminato da luce a basso consumo energetico, politica già sperimentata in passato, non ha incontrato i gusti di molti utenti di internet, dando vita a paragoni con gli alberi di altre località romagnole. Ultimo, in ordine di tempo, il paragone con la vicina piazza di Reda, dove a lato di un albero vero, trasformato per l'occasione anche in cabana della Natività, è stata installata un'attenso struttura per ospitare feste. Al gusto e alla sensibilità di ognuno, la sentenza finale. O Tannenbaum, 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 Grazie per la visione